Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. In questo periodo spesso mi è stato chiesto come poter estrapolare pagine selezionate da un pdf lungo, come unire più documenti in pdf in un unico documento pdf, come magari comprimere un pdf di più pagine con dentro immagini. Ebbene, la risposta a queste ed altre domande è nella web application, nulla da installare, sito di riferimento che ora vi mostro, pdf.io. Con pdf.io in realtà ho un cruscotto, cioè una panoramica multi servizi, naturalmente utilizzabile a questo punto da un qualsiasi browser, cioè un qualsiasi programma di navigazione, che sia su computer o su dispositivo mobile, che mi permette di fare un sacco di operazioni sui file pdf. Ad esempio proviamo a vedere con facilità come si possa dividere, come si possano separare, pagine selezionate di un documento in pdf lungo. Allora io clicco su dividi, guardate è veramente così semplice, poi clicc pulsante viola scegli file per pescare il documento pdf dal computer, altrimenti c'è la possibilità cliccando google drive, dropbox o link, url, di poter recuperare il pdf anche altrove. Ora io clicco su scegli file, ho nella mia cartellina dei download, tra parentesi, proprio un manuale di una risorsa educativa composto di più pagine, come stiamo vedendo. A questo punto io che cosa faccio? Posso cliccare su pagina 19 e lui estrarrebbe quella pagina lì. Oppure con il tasto ctrl premuto io posso cliccare pagina 19 e pagina 21, la cosiddetta selezione di pagine discontinue. Chi di voi usa il foglio elettronico, ad esempio, sa che il tasto ctrl anche in una tabella consente di selezionare una cella sì, poi una cella vuota e una cella nuovamente sì, le famose appunto voci non contigue. Se invece voglio selezionare pagine tutte vicine e ricomprendere anche la 20, allora tengo premuto il tasto maiuscolo shift, quello a sinistra nella tastiera, ed ho il mio intervallo di pagine. Guardate, con un clic su dividi, l'operazione è terminata. È stato generato il nuovo pdf estratto in un istante composto dalle tre pagine desiderate, io clicco sul mio tasto viola download, assegno semplicemente il nome che desidero, nuova divisione manuale, clicco su salva, ed ora non faccio altro, giusto per controprova che cliccare sulla mia cartellina gialla esplora file in basso, cliccare su download, clicco doppio clic su nuova divisione manuale, quindi vado ad aprire il mio documento per vedere cosa è successo, andiamo un pochettino a curiosare, ed ecco che lo vediamo già in alto, pagine e pagina in questo caso, uno di tre, dunque le pagine totali sono tre, sono proprio quelle che io ho estrapolato, la 19, la 20 e la 21. Come di consueto, quindi, prova pratica su strada a voi, l'ottima risorsa di cui abbiamo parlato è pdf.io, utilizzabile ovunque ci serva, ancora appuntamento qui sul mio canale e YouTube Trainer Andrea per i precedenti videocorsi, e vi do già come di consueto l'appuntamento al prossimo videocorso didattico, sempre su risorse estremamente concrete e spendibili per tutti. Un caro saluto!